Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo ben ritrovati qua nel solito disordine della mia libreria che voi ormai ben conoscete. Allora, 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 vogliamo continuare a parlare un pochino di cosine carine a proposito del nazismo, a proposito delle leggende che girano sul nazismo, la base 211 in Antartide, ne avete mai sentito parlare? Sì, insomma, praticamente la fantomatica cosiddetta nuova Berlino costruita sotto i ghiacci antartici dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale per sfuggire alla sconfitta per creare un Reich in Antartide e da lì partire alla riscossa per la conquista del mondo. Allora, 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 come è nata sta storia? Allora, praticamente, i tedeschi sappiamo bene che cercavano disperatamente, o perlomeno Hitler e il nazismo, cercavano da sempre un cosiddetto spazio vitale, ecco, chiamiamolo così. Allora, il governo tedesco, in base a questa cosa dello spazio vitale, insomma, fece, come dire, un'opera di promozione di svariati viaggi di esplorazione, Tibet, Asia e anche l'Antartide, per verificare se fosse possibile creare un insediamento stabile in mezzo ai ghiacci del Polo Sud. Fu così che il 17 dicembre del 1938 dal porto di Hamburgo partì verso il Polo Sud, verso l'Antartide, il mercantile Schwabenland appositamente modificato per il lancio di idrovolanti, con a bordo ingegneri, biologi, idrografi e cartografi. Dopo un mese di navigazione la nave raggiunse la banchisa dell'Antartide e da lì i tecnici tedeschi cominciarono l'esplorazione del territorio tramite gli idrovolanti. Coprirono una superficie compresa tra i 325.000 e i 600.000 chilometri quadrati, a seconda delle fonti, e segnarono il territorio con migliaia di bandiere tedesche allo scopo di rivendicarne la paternità. A metà febbraio del 1939 la spedizione riprese il viaggio di ritorno in Germania con il proposito di ritornare quanto prima in Antartide per incrementare le conoscenze acquisite di quei territori. Perché ricordiamoci, a quanto pare in Antartide ci sono grossi giacimenti di minerali e materiali preziosi, ma insomma lo scoppio della guerra impedì alle spedizioni scientifiche tedesche di tornare in Antartide. Allora questa esplorazione di parte dell'Antartide avvenuta nell'inverno tra il 38 e il 39 ha dato origine alla leggenda della base 211, una leggenda secondo la quale i nazisti avrebbero creato un'enorme base sotterranea utilizzando un canale sottomarino che avrebbe attraversato tutto il continente antartico. Spingendosi addirittura questo tunnel sottomarino si sarebbe spinto addirittura fino alla Nuova Zelanda. Un cazzo di carta geografica, un cazzo di mappamondo, l'avete mai guardato? Ritardati che ci credete? Insomma, vabbè. Dicevo, tutto questo complesso avrebbe avuto il nome di Nuova Berlino e sarebbe sorto a partire dal 1942 con materiale trasportato esclusivamente da sommergibili. Cioè, trasportato esclusivamente da sommergibili. Cioè, insomma, volete farmi veramente credere che tutta la flotta sottomarina tedesca faceva la spola tra la Germania e l'Antartide per costruire tutta sta roba. Cioè, vabbè. Allora, i sottomarini sarebbero stati gli unici che potevano eludere con relativa facilità la sorviglianza nemica fino ai territori dell'America meridionale e addirittura fino all'Antartide. E sempre secondo questa leggenda, che, insomma, è peggio che priva di risconti oggettivi, evidentemente una panzana, dopo la sconfitta subita a Stalingrado, i tedeschi non erano più sicuri della vittoria e cominciarono a prendere sempre più in considerazione l'ipotesi della fuga, insomma, a vedere la fuga come un'opzione. E una delle mete ideali sarebbe stata naturalmente la sicura nuova Berlino, ovvero sia la base 211 in Antartide costruita a partire dall'esplorazione della Schwabenland. Vabbè. Diciamo che l'Antartide sarebbe stata anche una opzione per stabilirsi lì alla luce del possibile supporto che avrebbero potuto ricevere dai governi filonazisti dell'America regionale, soprattutto l'Argentina. Con l'inizio del 1944 cominciarono le spedizioni verso la base 211 sotto il diretto controllo delle SS. Oggettivamente forse le SS in quel periodo avevano anche di meglio da fare, ma lasciamo stare. Con la fine della guerra molti gerarchi nazisti avrebbero trovato rifugio proprio sotto il continente di ghiaccio. Alcuni sostengono che anche Hitler ed Eva Braun fossero tra questi. Si tratta di ipotesi, quantomeno fantasiose, che nacquero in seguito ai viaggi, che questi sono storicamente provati, di alcuni U-Boat che negli ultimi mesi della guerra trasportavano materiali non ben identificati su una rotta meridionale a sud del continente americano. Nell'aprile del 1945 un ultimo convoglio composto da due U-Boat lasciò i porti tedeschi per dirigersi verso l'Antartide. E si sarebbe trattato dello U-530 e dello U-977 che si consegnarono alle autorità argentine il 17 agosto del 1945, cioè più di due mesi dopo, molti mesi dopo, la fine dell'ostilità. Ma erano completamente vuoti. Quando le autorità locali, gli ufficiali statunitensi, interrogarono l'equipaggio non ricevettero alcuna informazione sulle loro destinazioni e questo fece nascere molte supposizioni. Cioè in realtà, ripetiamo, si tratta di leggende, la destinazione di questi due sommergibili era ben nota, il Giappone e addirittura c'erano con l'equipaggio tedesco, c'erano degli ufficiali giapponesi che alla, come dire, notizia della resa della Germania decisero di suicidarsi per non consegnarsi in mano al nemico e furono sepolti in mare con tutti gli onori. Questo è un altro discorso. Allora, i sostenitori della fantasiosa tesi della base antartica sostenivano che lo scopo della missione dello U-530 e dello U-977 era proprio quello di distruggere la base 211. Vabbè. I sostenitori dell'esistenza della base 211 citano sempre l'articolo apparso il 5 marzo 1947 sul giornale cileno El Mercurio che riportava una notizia ripresa dall'agenzia di stampa americana International News Service a proposito di una intervista concessa dal famoso esploratore americano, l'ammiraglio Richard Evelyn Bird che era comandante dell'operazione High Jump al giornalista Lee Van Atta a bordo della USS Mount Olympus. Allora, in quell'intervista Bird avvertiva gli Stati Uniti dei pericoli che avrebbero corso in caso di un'invasione del paese da parte di aerei ostili provenienti dal paese, cioè provenienti dalle regioni polari. Nel 1947 però ai sostenitori della base 211 non viene in mente che nel 1947 cominciava già da un po' la guerra fredda. Oibo. Vabbè. Bird affermava che tale consapevolezza era il risultato più importante delle sue osservazioni in Antartide e avvisava i suoi compatrioti di non ritenersi al sicuro solo perché a distanza dai luoghi del pericolo. Allora, questa famosa intervista di Bird è quantomeno discussa e quantomeno discutibile perché la riportò praticamente solo sto cazzo di giornale cileno è ripresa da un'agenzia di stampa americana che nessuno aveva mai sentito nominare. Oibo. Questa famosa operazione High Jump, comandata da Bird, praticamente avvenne alla fine dell'estate del 1946. La Marina degli Stati Uniti organizzò una missione esplorativa in Antartide allo scopo di addestrare il personale a operare in zone particolarmente fredde e aumentare le conoscenze esistenti su idrografia, geografia, geologia, meteorologia e condizioni elettromagnetiche dell'area antartica. Una squadra di 13 navi e diversi aerei comandati dall'ammiraglio Richard Evelyn Bird e divisa in tre gruppi raggiunse le coste dell'Antartide nei primi giorni del dicembre 1946 ed esplorò le isole Marchesas, la Baia delle Balene nel mare di Ross e l'isola di San Pietro. Questa missione effettuata pochi mesi dopo la fine della seconda guerra mondiale alimentò molte dicerie, e te pareva, soprattutto tra coloro che sostenevano l'esistenza della famosa base 211. Secondo questi la spedizione americana non era altro che il mezzo per impossessarsi di questa cazzo di base nazista. La struttura sotterranea realizzata in Antartide per catturare il prototipo del Vril, un disco volante nazista, oppure del Thule, la fantomatica astronave nazista che avrebbe avuto un motore a mercurio sullo stile dei celebri Vimanas indiani. Il fatto poi che alcuni aerei precipitarono durante le escursioni per esplorare il continente antartico fu attribuito ovviamente a interventi armati da parte di militari nazisti che erano rimasti a presidiare quella zona e a custodire i segreti. Ovviamente non c'è uno stracazzo di prova. Cioè gente, allora, il discorso è semplicemente questo, cioè ci rendiamo conto, dico io, se proprio volete credere a qualcosa, credete a qualcosa costruito un po' meglio, pigliatevi un cazzo di mappamondo, pigliatevi un cazzo di carta geografica, aprite uno stracazzo di Atlante, porca puttana, per vedere che è francamente poco probabile tutta questa storia della base 211. Cioè, io dico semplicemente una cosa, se volete crederci, credeteci pure, ma si tratta di cazzate belle buone. Nel corso degli anni è capitato anche a me di leggere qualche cosa su questa fantomatica base nazista nel continente antartico. Ma si tratta tutta di una serie, si dice, pare, sembra, si dice che, oibo, ma perché, ma perché, non si sa, eccetera, eccetera, eccetera. Congetture, supposizioni, verità supposte, e quantomeno fantasiose, quantomeno campate in aria. Cioè, gente, non c'è niente, 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 voci, 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 voci. Farò un video anche sui due stramalidetti UBOT che sarebbero stati, insomma, che sono stati catturati in Argentina. Ma vi dico soltanto una cosa. Cioè, gente, vi dico soltanto una cosa. Cioè, tanto per dire a che livelli siamo di idiozia. Cioè, vi faccio vedere una foto. Questo signore qua, che vi faccio vedere, è il signor Victor Schoberger, ok? Ok? Il signor Schoberger era il teorico dell'implosione dei vortici. E uno si chiede, che cazzo è questa implosione dei vortici? Io ho provato a leggere qualche cosa, devo essere sincero, ignorante come sono, capra come sono, biecamente materialista come sono. Non ci ho capito un cazzo. Detta com'è. Cioè, si tratta di teorie pseudoscientifiche che non sono mai state accettate, che non sono mai state provate, che non sono mai state scientificamente accertate. Ma i sostenitori delle teorie del complotto ci credono, ci vogliono credere, ci vogliono credere tanto e tanto fortemente. Perché? Perché noi sappiamo, perché noi abbiamo scoperto il complotto, perché ce lo hanno nascosto. E voi come cazzo lo avete scoperto? Vabbè, lasciamo perdere. Cioè, dicevo, c'è già il nome implosione dei vortici. Cioè, come, dove, quando, perché? Cioè, il signor Schoberger che cazzo avrebbe inventato se non un altro dei tanti sistemi per fregare soldi a Hitler e farsi bello con le alte gerarchie naziste? Vabbè, si tratta delle solite cose. Ah, dimenticavo una cosa, vi faccio vedere una cosa. Notate, questa è una cartina dell'Antardide, notate? Ok, la zona rossa è quella esplorata nel 1938-1939 dai tedeschi, quella dove sorgerebbe la famosa base 211. Allora, io ve lo dico e ve lo ripeto, gente, volete crederci? Credeteci pure. Però dopo non lamentatevi, se gentaglia come me, brutta, sporca e cattiva e soprattutto brutte persone ottime massime, vi prendiamo in giro somministrandovi massicce dose, massicce dosi di perculato di stronzio, perché è quello che vi meritate, cioè ci volete credere? Credeteci, ci volete pensare, ci volete, come dire, sguazzare in queste cose? Volete vedere una cosa così? Pensateci, cioè ho detto credeteci, credeteci pure, credeteci fortemente, credeteci più forte che potete, ma ricordatevi anche una cosa, che dopo gentaglia come me, vi piglia per il culo. Pensateci, signori, pensateci, tutto qui. Quindi, cari signori, io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e come sempre, come al solito, arrivederci al mio prossimo video. Buonasera.